La costiera amalfitana è davvero un gioiello. I suoi panorani sono spettacolari. Ci sei già stato o vorreste andarci? Non ci sono ancora stata, ma mi piacerebbe moltissimo visitarla un giorno. Tu ci sei stato? Non fisicamente, ma ho visto molte foto e video. Sembra davvero incantevole. Se ci andrai, sarà un'esperienza indimenticabile. Ne sono sicura. Intanto possiamo sognare un po' parlando dei nostri posti preferiti. C'è un'altra destinazione che ti piacerebbe visitare? Mi piacerebbe molto vedere la Sicilia. È una regione ricca di storia, cultura e cibo delizioso. Hai mai pensato di visitarla? Assolutamente sì. La Sicilia è piena di fascino, le antiche rovine, le spiagge e ovviamente il cibo incredibile. Sarebbe una meta perfetta per una vacanza. Assolutamente. Immagina di esplorare i templi di Adrigento, rilassarti sulle spiagge di Taormina e gustare un cannolo autentico. Sarebbe un viaggio indimenticabile. Mi hai fatto venire l'acquolina in bocca. Sarebbe davvero un'esperienza fantastica. La Sicilia ha così tanto da offrire. Sì, la Sicilia è un tesoro di meraviglie. Ogni angolo ha una storia da raccontare. Hai già pensato a qualche altra destinazione che ti piacerebbe visitare? Mi piacerebbe tanto visitare la Puglia. Le città bianche come Ostuni e i trulli di Alberovello sembrano magici. Anche le spiagge sono spettacolari. La Puglia è davvero unica. Le città bianche e i trulli sono affascinanti e le spiagge sono tra le più belle d'Italia. Sarebbe un viaggio indimenticabile. Sicuramente. È bello sognare di esplorare tutti questi posti meravigliosi. L'Italia è davvero ricca di tesori nascosti e luoghi incantevoli da scoprire. Assolutamente. C'è sempre qualcosa di nuovo e affascinante da scoprire in Italia. È bello sognare ad occhi aterti e pianificare i futuri viaggi. Esatto. I sogni di viaggio ci danno sempre nuove ispirazioni. Chissà quale sarà la prossima meta da esplorare. Le possibilità sono infinite. Potresti scegliere una destinazione in Italia o magari esplorare qualche luogo all'estero. Dove ti piacerebbe andare? Mi piacerebbe molto visitare il Giappone. La combinazione di antiche tradizioni e tecnologia moderna è affascinante. E tu? Hai qualche luogo all'estero che ti ispira? Il Giappone è davvero affascinante. Mi piacerebbe esplorare l'Islanda con i suoi paesaggi mozzafiato e le aurore boreali. Sarebbe un'esperienza incredibile. L'Islanda è davvero magica. Le sue meraviglie naturali sono uniche. Ammirare l'aurora boreale sarebbe un sogno. Sarebbe un viaggio indimenticabile. Senza dubbio, l'Islanda offre uno spettacolo naturale unico e spettacolare. Sarebbe meraviglioso ammirare le aurore boreali. Chissà, magari un giorno potrai realizzare questo sogno. Lo spero anch'io. Intanto possiamo continuare a sognare e pianificare. Chissà quali avventure ci attendono. Esatto, sognare e pianificare fa parte del divertimento. Le avventure future saranno sicuramente emozionanti. Chissà quali luoghi magici scoprirai. Sì, il mondo è pieno di luoghi magici da scoprire. È bello sapere che ci sono tante avventure emozionanti che ci aspettano. È vero, il mondo è pieno di meraviglie da esplorare. Ogni viaggio può diventare un'avventura indimenticabile. Non vedo l'ora di scoprire quali saranno i tuoi prossimi sogni e piani di viaggio. Anche a me piace sognare e pianificare. Le possibilità sono infinite. Non vedo l'ora di scoprire nuove mete con te. Sarà un piacere sognare e pianificare insieme a te. Le possibilità sono davvero infinite. Non vedo l'ora di scoprire quali avventure emozionanti ci aspettano. Nemmeno io. Continuiamo a sognare e a lasciarci ispirare. Chissà quali incredibili avventure ci riserverà il futuro. Sono sicuro che ci saranno tante avventure meravigliose. Continuiamo a sognare e lasciarci ispirare. Il futuro ha sicuramente tante sorprese incredibili in servo per noi. Assolutamente sì. Il futuro è pieno di possibilità entusiasmanti. Non vedo l'ora di continuare a esplorare e a sognare insieme a te. Nemmeno io. Sarà bellissimo continuare a esplorare e sognare insieme. Il futuro ci aspetta con tante emozioni e scoperte. Sì, sarà un viaggio meraviglioso. Restiamo aperti alle nuove avventure e alle sorprese che ci attendono. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro. Esatto. Restiamo aperti alle nuove avventure e alle sorprese che ci aspettano. Sarà un viaggio incredibile e non vedo l'ora di scoprirlo insieme a te. Nemmeno io. Sarà bellissimo condividere nuove scoperte e avventure. Il futuro ci aspetta pieno di emozioni. Sarà un piacere condividere ogni nuova scoperta e avventura. Il futuro ci aspetta, ricco di emozioni e sorprese meravigliose. Assolutamente. Ogni nuova scoperta renderà il viaggio ancora più speciale. Non vedo l'ora di tutte queste avventure insieme. Nemmeno io. Sarà un viaggio straordinario e ogni nuova avventura lo renderà ancora più speciale. Non vedo l'ora di vivere tutto questo insieme a te. Sarà davvero un viaggio straordinario. Sono entusiasta di condividere ogni momento con te. Anch'io sono entusiasta all'idea di condividere ogni momento e ogni scoperta. Sarà un viaggio meraviglioso, ricco di emozioni e avventure indimenticabili. Sì, ogni passo sarà un'avventura e ogni scoperta un ricordo prezioso. Non vedo l'ora di iniziare questo incredibile viaggio insieme a te. Anch'io non vedo l'ora di iniziare questo incredibile viaggio insieme a te. Ogni passo sarà un'avventura e ogni scoperta un ricordo prezioso. Sarà un'esperienza indimenticabile. Sarà davvero indimenticabile. Andiamo incontro a un futuro pieno di avventure emozionanti. Sì, un futuro pieno di avventure emozionanti ci aspetta. Insieme sarà un viaggio straordinario. Assolutamente. Non vedo l'ora di vivere ogni momento di questo straordinario viaggio insieme. Nemmeno io. Ogni momento di questo straordinario viaggio sarà speciale e non vedo l'ora di guiderlo insieme a te. Sarà davvero speciale. Non vedo l'ora di condividere questa avventura con te. Nemmeno io. Sarà fantastico condividere questa avventura insieme. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. Sarà un viaggio straordinario pieno di sorprese e emozioni. Iniziamo questa bellissima avventura insieme. Sì, iniziamo questa bellissima avventura insieme. Sarà straordinario e pieno di sorprese ed emozioni. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Sarà un'avventura straordinaria e non vedo l'ora di iniziare insieme a te. Nemmeno io vedo l'ora. Sarà un'avventura straordinaria. Insieme renderemo ogni momento speciale e indimenticabile. Esatto. Ogni momento sarà unico e speciale. Non vedo l'ora di vivere questa avventura insieme. Anch'io non vedo l'ora. Sarà un viaggio incredibile e indimenticabile. Facciamo in modo che ogni momento sia speciale. Assolutamente. Renderemo ogni momento speciale. Sarà un viaggio incredibile e indimenticabile. Assolutamente. Sarà un viaggio incredibile e pieno di momenti indimenticabili. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. Sarà un'esperienza meravigliosa da condividere. Facciamo di ogni momento qualcosa di speciale. Sì, ogni momento sarà qualcosa di speciale. Vivremo un'esperienza meravigliosa insieme. Sarà davvero un'esperienza meravigliosa. Ogni momento sarà indimenticabile. Sarà davvero un'esperienza indimenticabile. Ogni momento sarà speciale e prezioso. Assolutamente sì. Ogni momento sarà speciale e prezioso. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. Sarà un viaggio fantastico. Iniziamo questa meravigliosa avventura insieme. Sì, iniziamo questa meravigliosa avventura insieme. Sarà fantastico. Assolutamente. Sarà un'esperienza fantastica. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Sarà un'avventura straordinaria. Sarà sicuramente un'avventura straordinaria. Non vedo l'ora di cominciare. Nemmeno io. Sarà un viaggio straordinario e ricco di emozioni. Facciavolo insieme. Sì, facciamolo insieme. Sarà un guaggio straordinario e pieno di emozioni. Non vedo l'ora. Anch'io non vedo l'ora. Sarà un viaggio straordinario pieno di emozioni. Iniziamo questa meravigliosa avventura. Bitcoin è una criptovaluta digitale. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Certamente. Fammi sapere quando sei pronto a riprendere. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Va bene. Pregniti il tuo tempo. Quando sei pronto, sarò qui ad ascoltarti. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Va bene. Aspettevo fino a quando sarai pronto. Dimmi pure quando vuoi continuare. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Non c'è problema. Prenditi il tempo che ti serve. Sarò qui ad aspettarti. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Va bene. Riprova pure quando sei pronto. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Certo. Fammi sapere quando sei pronto. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Elon Musk è un imprenditore e innovatore famoso. Noto per aziende come Tesla e SpaceX. Ti interessa qualcosa in particolare su di lui? Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Va bene. Riprova quando vuoi. Purtroppo non riesco a rispondere adesso. Attendi un momento e poi riprova. Da offrire. Ti piacerebbe visitarla un giorno? New York è una città straordinaria. Sarebbe fantastico visitarla un giorno. Sì, sarebbe un viaggio incredibile. New York ha così tante cose da vedere e fae. Assolutamente. New York è piena di attrazioni. Passo il limite mensile per la modalità vocale avanzata. Per continuare a chattare puoi passare alla modalità vocale standard. Grazie probabilmente. Grazie.